Grave lutto nel mondo dell'arte, morti infatti a San Francisco, Gilbert Bickle, si è spento serenamente nel solo 65 anni età, disegnato la bandiera con i colori del corvaleno nel 78 per la giornata degli omosessuali, che anticipava quello che di là poco sarebbe diventato l'evento dell'orgoglio gay, Gay Pride. Il vessillo, diventato simbolo della comunità LGBT e gay, non solo delle capitali ma nel mondo intero, fu creato con 8 colori all'inizio, poi però Bickle accettò di eliminare le rosa e il turchese proponendo la versione a 6 colori. Una morte purtroppo che si è verificata e di cui penso tutto il mondo, non solo quello LGBT, si stringerà nel forte, quindi nell'immenso dolore. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua. Bickle riposi in pace a voi.